Ciao, eccoci qua ragazzi, finalmente torniamo a parlare un pochettino di calcio, dato che nelle ultime due giornate in realtà si era discusso abbastanza poco, c'erano alcune tematiche principali riguardanti la Superleghe e gli aggiornamenti che ci sono stati. Io come al solito non mi sono dilungato a parlare di queste cose, ho soltanto voluto riportare quelli che erano stati i principi e giocare insieme a voi per mostrarvi quelle che ad oggi sono le 80 squadre che la UEFA tiene in maggiore considerazione. Sono tutti argomenti quelli relativi ai tribunali, alle sentenze o questi che sono più legati alla politica che al calcio, sono legati al calcio attraverso altre sfumature che mi competono decisamente meno, nelle quali mi trovo meno a mio agio, però credo che sia anche giusto riportarle perché ovviamente fanno parte di un percorso tra virgolette di opinione che ognuno di noi può avere, nelle quali siamo sicuramente meno ferrati. Io mi metto in prima linea. Vi dico subito, anzi due cose. Una, mi piace, commento, iscrizione al canale, dato che stiamo crescendo sempre di più, stiamo volando, il 2023 deve essere ancora l'anno in cui andiamo a superare un po' tutti i nostri record e la nostra community va a cementificarsi ancora di più. E domani video speciale prepartita insieme a Romeo Agresti che ci andrà a dare alcune indicazioni un po' più specifiche legate a questo Juventus Fiorentina, anche magari in direzione Tridente che dovrebbe essere una delle opzioni, dovrebbe essere una delle opzioni che non significa che sarà, però anche oggi Allegri ha fatto intendere che qualcosa da quel punto di vista si è mosso e che comunque la Juventus l'ha presa in considerazione. Le partite precedenti ci hanno portato due vittorie importanti, in Coppa Italia per raggiungere la semifinale e in campionato per tornare a vincere. Fiorentina è una squadra complicata e che corre e che pressa, servirà molto ordine. In questo momento mi sembra che la Fiorentina sia una squadra un po' in difficoltà rispetto a quelli che erano gli standard, rispetto anche a quelle che erano le aspettative dell'anno scorso, di inizio stagione, anche relative all'allenatore che secondo me è molto molto bravo, competente, Vincenzo Italiano, un allenatore che secondo me è destinato a fare strada e a fare molto bene all'interno del suo percorso appunto da mister. Rabiot non è una scommessa vinta, è un giocatore che a 27 anni ha trovato una sua maturità. Solitamente tra i 27 e i 30 giocatori raggiungono la maturità, è l'apice della loro carriera, non in tutti ma spesso. Domani Rabiot gioca. Io sono abbastanza d'accordo da questo punto di vista ed è una cosa che mi porto dietro da un po'. Ricordo i discorsi che si facevano a lato mondiale quando i vari Totti del Piero avevano quell'età, i Pirlo, i Gattuso, i Camoranesi, i Perrotta, e andavano a vincere il mondiale e si diceva è l'ultima grande occasione per questa generazione, no? Dato che comunque anche 4 anni prima, vabbè, sappiamo un po' tutti quello che è accaduto in Corea, non c'era stata una risposta definitiva, non erano diventati campioni, non si era vinto e si diceva questo è l'ultimo ciclo perché intorno ai 30, giù di lì, in questi 4 anni che ha citato Allegri, si raggiunge la maturità calcistica e poi inizia la fase calante perché dopo i 30, ovviamente non tutti, ogni giocatore ha il suo fisico, basta vedere Buffon che in questo momento gioca ancora, certo gioca in Porta, certo gioca in Serie B, ma gioca ancora, ad alti livelli, se non altissimi, ma comunque alti, però il corpo umano, l'atleta, solitamente, in media, non vale per tutti, questi anni sono quelli di massimo splendore dopo inizia una fase di leggero calo che poi varia da appunto atleta ad atleta, è una cosa che si diceva anche della nazionale inglese con i vari Terry, Lampard, Gerrard, insomma, è un discorso che ho sentito fare diverse volte nel calcio, ora tocca a Rabiot che è un classe 95 e sta iniziando ad entrare all'interno di quegli anni lì di carriera, e infatti non credo che rimarrà la Juve l'anno prossimo per mille ragioni che vanno dal futuro della Juve incerto, anche al fatto che in questo momento probabilmente avrà voglia di un'avventura differente e forse anche di uno stipendio differente, quindi vediamo come saranno le ultime settimane di rabbio con la maglia della Juventus. Noi in questo momento dobbiamo concentrarci su obiettivi minimi in campionato, dobbiamo raggiungere Bologna e Udinese, da giovedì entreremo in Europa League, non possiamo fare altro che un passo alla volta, dobbiamo migliorare durante la partita, l'ultima mezz'ora di Salerno non mi è piaciuta, dopo 60 minuti invece buoni, domani serve una prestazione migliore per poter battere la Fiorentina. Allora, che domani serve una prestazione buona per battere la Fiorentina, credo che questo sia assolutamente fuori discussione, Fiorentina che è una squadra sempre tosta da andare a affrontare, all'andata dopo 15 minuti in cui abbiamo dominato abbiamo subito per tutto il tempo, non abbiamo mai visto il pallone, una veramente prestazione terrificante, salvata anche da Perin che para quel rigore a Jovic mi pare, quindi sicuramente domani sarà una partita molto 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 difficile. Fiorentina che è una delle potenziali candidate ad andarsi a giocare a finale di Coppa Italia, vedremo se passerà il turno con la Cremonese, mi sembra la favorita da quel lato del tabellone, però attenzione che le sorprese nel calcio possono esserci sempre, noi invece siamo all'interno di una semifinale molto più equilibrata, anzi secondo me noi siamo sfavoriti rispetto all'Inter in questo momento, vedremo come ci arriveremo ad aprirle. Però Allegri continua su quel percorso, su quella linea comunicativa di un passo alla volta, pian pianino, non guardiamo avanti, micro obiettivi, bla bla bla. I dati dicono che Danilo sta bene, in quel ruolo riesce a gestirsi meglio, sta facendo bene come tutta la squadra, sta diventando un giocatore ancora più importante. E poi eccola qua, la domanda di Romeo, proprio sul tridente, ieri Romeo infatti diceva che era stato almeno provato, il tridente è Allegri un po' vago, non è certo, non è sicuro, non dà una risposta come le altre, bassa anche gli occhi, dice non lo so, sul tridente, stamattina abbiamo fatto allenamento, domani deciderò, la partita è lunga, giovedì c'è in un'altra, non esistono più le mezze stagioni, quelle risposte autoconfezionate, sono quei modi di dire, non lo so, mi sembrava proprio un Allegri che cercava di arrampicare sui specchi che sbiascicava qualcosa pur di nascondere, quindi secondo me la possibilità di vedere davvero il tridente c'è, e infatti Allegri poi dice potrebbe essere la partita giusta per fare giocare insieme e deciderò domani mattina. E' la risposta nella quale mi è sembrato meno deciso, quindi forse anche la domanda che più l'ha messo in difficoltà, perché poteva svelare una novità dal punto di vista della Juventus, ricordo sempre quel Juventus last dove mettiamo il 4-2-3-1, che poi ci porta a Cardiff, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, perché quel Juventus last era venuto a gennaio, ora siamo a febbraio, però come dice Allegri, giovedì c'è l'Europa League, e poi ad aprile c'è la semifinale, e poi adesso dobbiamo iniziare a macinare punti, quindi probabilmente una svolta tattica a questo Juventus serve, ma soprattutto perché sono rientrati giocatori differenti rispetto a quando non c'erano, e c'era bisogno di inventarsi qualcosa, e si era inventato il 3-5-2, quindi secondo me in questo momento con gli uomini di disposizione della Juve c'è bisogno di qualcos'altro, c'è bisogno di fare dei ritocchi, se no diventa veramente una stagione anonima, già all'interno di una seconda parte, una seconda parte di stagione appunto che è molto complicata, è molto complicata, e tanti tifosi della Juventus non sono nemmeno più sul pezzo, perché dicono che cosa la guardiamo a fare, ed è un ragionamento che si condivide, perché stiamo vivendo tutti la stessa sensazione, stiamo provando tutti le stesse emozioni. Non è questione di cambiare registro, bisogna migliorare anche il giocato in verticali, siamo bravi, li abbiamo nei piedi, ma dobbiamo migliorare, siamo lontani da quello che possiamo fare, ora che rientrano tutti posso anche fare posare degli altri giocatori come Danilo, stanno tutti bene. C'è armonia nel sapere che per raggiungere risultati bisogna fare fatica e rispettare molto l'avversario, è una cosa da cui non puoi prescindere, se no facciamo le figure che abbiamo fatto tra Monza e Salernitana in casa nel primo tempo e negli ultimi 30 minuti a Salerno. È un po' il problema della Juve, infatti quando io sento o leggo nei commenti eh vabbè ma era solo la Salernitana, troppe volte ci dimentichiamo che solo la Salernitana nel primo tempo in casa ci aveva fatto vedere i sorci verdi, molte volte ci dimentichiamo che è solo il Monza tra andate e ritorno in Serie A abbiamo fatto zero punti, molte volte ci dimentichiamo che è solo una squadra sicuramente di minore impatto a livello proprio agonistico della Juventus, un livello calcistico, è però solo quella squadra lì, noi siamo una squadra che se non va in campo concentrata, anche se è solo quella squadra, anche se sulla carta non dovrebbe esserci partita, la partita c'è come e noi facciamo male, quindi dobbiamo rimanere concentrati contro ogni avversario, non dobbiamo sentirci superiore agli altri, non dobbiamo sentirci più forti degli altri, sia la Juventus sì, ma in questo momento lo siamo soltanto nel nome, non lo siamo nelle azioni, non lo siamo all'interno del rettangolo di gioco, del rettangolo verde, che è quello che conta sempre di più, quindi umiltà. E poi Pogba, Pogba non può essere convocato, in questo momento è box, Pogba non c'è, Allegri qua, duro, deciso, rispondendo a Fabiana della Valle, mi dispiace, ma questa è la realtà, sta lavorando per tornare a disposizione, non so dirvi quando può tornare, magari tra una settimana, anzi no, magari tra 20 giorni, lo stiamo aspettando, io per primo, lo abbiamo preso perché è un giocatore importante, deciso qua Allegri, nel dare la risposta, Pogba non c'è, Pogba sta male, Pogba non è convocabile, né ora né col Nant, dato che si era discusso di questa cosa, poi Allegri aveva detto anche di chiesa con il PSG, e poi è stato convocato, ha giocato pure uno spezzone, vediamo che cosa succede, però Spogba è sembrato molto, molto irritato anche, Massimiliano Allegri, non so se nel tornare a discutere questa cosa, o perché si parlava di quell'argomento, quello non lo possiamo sapere, poi dice, Bonucci giovedì con il Nant sarà convocato, Milic è miglioramento, ma è distante, Caio è fuori, apre chiudo a parentesi, non ci sarà neppure Miretti, Bonucci lunedì farà allenamento con la squadra, sarà a disposizione per il Nant, un recupero che ci sta anche perché lì dietro iniziamo ad essere tiracchiati, abbiamo fatto il video l'altro giorno in cui dividevamo la rosa da Juventus per ruoli, ipotizzando proprio il tridente, vediamo che cosa succederà, dobbiamo guardare quelle davanti, il settimo posto è del Toro, ottavo Bologna Udinese, decimi noi e Monza, siamo lì, cerchiamo di aguentare quelle davanti, facciamo un passettino una volta, ancora una volta Allegri mette il repeat, e poi gli fa la domanda, ma col tridente bisogna cambiare assetto tattico, e lui dice dipende, si può giocare con tre centrocampisti, a quattro dietro, a tre dietro, non è questione di tridente, ma quando si gioca tutti insieme bisogna darsi una mano e loro hanno dato disponibilità, a questo punto, a questo punto, a me si illumina una lampadina, ma solo perché Allegri ha detto non è questione di tridente, e quindi immaginarmi un 4-2-3-1 con Kostic a sinistra, Chiesa a destra, Di Maria sottopunta, e Vlaovic davanti, diventa più di un'opzione, soprattutto in questo momento in cui a centrocampo abbiamo dei buchi, e questo slittare rientro di Pogbaci conferma quello che diceva l'altro giorno, quando faceva la conta, quindi ci sono pochi centrocampisti, e quando Allegri dice, non è questione di tridente, mi fa pensare a una sorta di 4-4-2, o 4-2-3-1, che dir si voglia, 4-4-1-1, tutti bisogna darsi una mano, tradotto, Chiesa bisogna che si vada a sacrificare, perché è quello che può dare di più in fase di non possesso, non so se è la lettura giusta, ma chiederemo anche a Romeo e vedremo se ci sarà appunto una conferma da questo punto di vista. I ragazzi sono stati molto bravi, in tutte le cose c'è un momento di adattamento, dopo la sentenza, dopo Napoli ci è caduto tutto addosso, puoi parlare normale che accada, se no ci stiamo raccontando delle non verità, ora abbiamo trovato un equilibrio, domani è importante con la Fiorentina, ci siamo dati dei mini obiettivi, domani è importante, la Fiorentina è sotto e siamo nelle condizioni di Salerno, poi giovedì abbiamo l'Europa League, ad aprile abbiamo la semifinale di Coppa Italia, lasciando stare tutto quello che abbiamo già detto, ripetuto, ribadito, abbiamo già detto più volte, il repeat, la risposta di default di Allegri in questo momento, secondo me questa è la risposta più umana più umana e più bella che ha dato Allegri all'interno della conferenza stampa e forse da un po' di tempo a questa parte, perché Allegri dice c'è caduto tutto addosso, dopo la sentenza e dopo Napoli c'è caduto tutto addosso, poi c'è stata la resta di Nicolò Atalanta, poi ci sono state quelle due partite non proprio bellissime, anzi, anzi, dove c'è ricaduto ancora tutto addosso, dove non siamo riusciti comunque a portare a casa la vittoria, anzi, siamo andati a perdere, anche dal Monza, è normale che accada, abbiamo parlato e se ne parla anche fuori, questo è anche un assist, tra virgolette, a quello che è uscito oggi, oggi sono uscite delle altre intercettazioni riportate dal Corriere, con un articolo di Nerosti, in cui si faceva riferimento a tante cose extracampo, si parlava di errori, si parlava di rapporti interpersonali tra i dirigenti della Juventus, si parlava di soldi buttati, e si parlava anche di procuratori di calciatori che chiedevano aumenti di stipendio, e quindi calciatori che potrebbero non rimanere alla Juventus a lungo, come Federico Chiesa, si parlava di parco giochi per i giocatori della Juventus, perché arrivavano qui e prendevano dei soldi, c'è un'intercettazione forte che dice, che Rubini, se prendevamo anche un cane, davamo 3 milioni e mezzo, il più scarso da noi prende come il più forte dell'Atalanta, Zapata prende 1,8, noi davamo 1,3,5 a tutti, e io mi domando, io mi domando, io capisco che in questo momento ci siano delle indagini in corso, ma queste intercettazioni nulla hanno a che vedere, perché sono tutte intercettazioni che vanno a destabilizzare l'ambiente e basta, quando Allegri parla di, se ne parla poi dentro e fuori normale, c'è tutto addosso, se no ci raccontiamo delle non verità, e secondo me fa riferimento anche a questo, che senso ha, che senso ha, diffondere sui giornali delle intercettazioni che nulla hanno a che vedere con quelli che sono le indagini in corso, soltanto perché ci sono, sono state scartate, allora diamo impasto ai giornali, che senso ha? Non ha senso, l'obiettivo è mettere Federico Chiesa in cattiva luce perché all'entourage che chiede l'aumento? L'obiettivo è far vedere che dentro la Juventus, anche dentro la Juventus, la gente non andava d'accordo? Mi sembra naturale, mi sembra logico, perché negli ultimi anni abbiamo visto una cattivissima gestione da parte della Juve, quante volte il tifoso si è domandato, si è chiesto, qual è la logica dietro queste scene, questi movimenti? Negli anni abbiamo fatto due o tre video, è diventato il terzo di recente, ma ne avevano già fatti due, uno l'anno di Pirlo, uno l'anno scorso e uno quest'anno, negli ultimi tre anni, tre video macro riassuntivi degli errori della dirigenza, in cui in più di un'occasione ci siamo domandati e non sono riuscito a trovare nemmeno la risposta nei commenti, ci sono state delle illazioni e dei modi di vedere, ma che non confermavano niente, la conferma le abbiamo avute quest'anno, ma la Juventus ha lavorato male, è fine, ed era sempre il dubbio che avevamo avuto e adesso abbiamo la conferma, ma che senso ha continuare a buttare carne sul fuoco? Quando non c'entra niente questa intercettazione, allora mi viene da dire si vuole per forza far passare che? Perché se no queste intercettazioni non hanno motivo di essere lasciate all'interno dei giornali, non hanno motivo di essere diffuse, per quale motivo? Nerozzi sarebbe giustificata dicendo beh, per me è una notizia che dentro a Juventus già un anno fa parlavano di rimettere del Piero all'interno della società, allora pubblichiamo quell'articolino, dall'intercettazione è venuto fuori che già l'anno scorso si parlava di rimettere del Piero all'interno della società nella conversazione tra Agnelli ed Elkan. Tutto il resto secondo me è continuare a buttare benzina sul fuoco. Poi nasce l'incendio, diventa incontrollabile, diventa ancora più grosso. Per forza poi la squadra va ad accusare anche queste cose qui. Mica solo le penalizzazioni, va ad accusare tutto, va ad accusare tutto perché sono umani. E questa risposta di Allegri mi è sembrata quella in cui si è sbottonato un po' di più dietro a una barriera che solitamente utilizza di risposte pronte, di risposte anche, se vogliamo, senza senso, o di frasi fatte o di ripetizioni, a volte anche noiose, a volte anche stancanti, che ti fanno sbuffare, perché io li leggo i commenti che lasciate sotto i video della conferenza. Dice sempre le stesse cose, ci sono sempre le stesse battute, sono sempre le stesse, lo sappiamo, l'ho detto tante volte, tantissime volte, e sempre questa risposta, e adesso questa è la linea comunicativa, e adesso è partito con questo, e adesso vuol far capire questo, però poi ci sono quelle risposte come questa qua, in cui si sbottona un po' di più, e fa capire che ci sono delle cose che danno fastidio, e che hanno dato fastidio anche alla squadra, e sono da prendere in considerazione, al di là di tutti gli errori che può fare l'allenatore, al di là di tutto quello che può essere la qualità del gioco espresso sul campo, che sono tutti discorsi a parte, ma sicuramente ai giocatori, agli allenatori, ai dirigenti, a tutti quelli che lavorano all'interno della Juve, questa situazione sta diventando pesante, sta diventando pesante per noi tifosi, figuriamoci chi la deve affrontare dal punto di vista lavorativo, proprio internamente, e Allegri fa bene a sottolinearle, secondo me, queste cose. Bremer ha giocato a Cremone e non è stato eccelso, a Napoli non ha fatto una buona partita, e il ragazzo lo sa, ultimamente però ha fatto delle buone partite, difficilmente se la squadra fa male, uno fa bene, ultimamente se facciamo male, lo facciamo tutti. Sì e no, sì e no, non sono proprio d'accordo su questa cosa, mi sembra sempre di vedere comunque alcuni giocatori sopra la media, anche quando le partite sono abbastanza brutte, e nelle pagelle di solito, questa cosa la sottolineiamo. e poi conclusione su Pogba dice, Pogba ha un percorso normale, viene da un menisco esterno noiosissimo per via degli assestamenti al ginocchio, magari un giorno ti dà fastidio, magari l'altro no, lui ci mette tutto l'impegno per tornare prima, al momento non è a disposizione, e ancora una volta Allegri stizzito, secco e stizzito quando parla di Pogba, infatti anche questa è una cosa che probabilmente chiederò a Romeo, appuntamento domani mattina, quindi ragazzi, domenica vi fate la vostra colazione con calma, iniziamo a parlare un po' della partita, e anche di tanti retroscena che secondo me sono divertenti per chi effettivamente alle conferenze ci va come Romeo, e noi invece le possiamo soltanto ascoltare, commentare, e ricommentare nei commenti di questo video. Ciao ragazzi!